Ehi, tranquillo, tranquillo, ma tu non ti sei chiesto che mi avevano messo dentro, eh? Devi sapere che quando arrivo alla sua odiavo i miei genitori, soprattutto mio padre, perché mio padre tornava a casa tutte le tene ubriate e riempiva di botte mia madre, la quale non mai esce, perché me tra me la faccio i miei genitori, saremmo stati scappate. Scusate, mi sono sbagliato, mi sono TEDA怎麼辦, e MIGRACOAV. Mi sono riammi e mi bella pace, che mi sono sbagliato, come il soli non è che mi ha capito francamente, ma buona nudia tranquillo, me vuoi capito è venito tartare o fiato la prere ведo del cofuoco!!! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Che cazzo fai Sol, devo stare qua in un palco pubblico, guarda che finisci dentro per scelto di merda. Grazie per la visione!